La formazione per le imprese è un tema importante per avere i lavoratori sempre più pronti? Sì, la formazione è uno degli asset più importanti della Conf Commercio e noi in provincia di Varese attraverso l'Unione e le 5 territoriali da tantissimi anni formiamo migliaia di imprenditori, migliaia di collaboratori all'interno dell'impresa per essere pronti e dinamici e assolutamente aperti all'evoluzione e alle sfide del mercato. Quello che andiamo a presentare oggi è un progetto di formazione specializzante che è quello di Fondo Forte che ha la caratteristica di costruirsi sull'azienda quindi invece di essere solo una formazione su temi trasversali l'azienda può andare a individuare un tema nel quale ha bisogno di formare i propri collaboratori e la propria imprenditoria in quel modo viene proprio costruita una formazione ad hoc. Questo è un lato assolutamente importante perché le competizioni che hanno oggi le imprese sono competizioni sempre più complesse e complicate da affrontare e quindi anche la formazione deve essere veramente fatta su misura per ogni impresa.